Saluto il Sindaco di Norcia Nicola Lemanno e Brunello Cucinelli e con loro saluto anche tutte le autorità, i rappresentanti delle istituzioni che partecipano a questa lodevole iniziativa. Oggi ci ritroviamo insieme. È una giornata molto importante per Norcia. Si inaugura la Torre Civica del Palazzo Comunale, che è stata restaurata e che finalmente tornerà a mostrare tutta la sua bellezza e a far risuonare simbolicamente la voce della città. È un momento importante, non solo per Norcia e i suoi abitanti, ma per tutto il centro Italia, duramente colpito dal sisma quattro anni fa. La storia di questo restauro traccia un percorso virtuoso, nel solco dei valori dell'operosità benedettina e a me piace il riferimento di Brunello Cucinelli a Norcia come alla cittadella dell'anima e dello spirito, capace in questa occasione di stimolare gli stessi lavoratori della sua azienda che hanno proposto, impegnandosi anche economicamente, il restauro della Torre. Questo slancio solidale dal basso ha trovato terreno fertile in chi crede nella preziosa partnership pubblico-privato e nella responsabilità sociale dell'impresa, un tema che, come sapete, è a me molto caro. Brunello Cucinelli, con la sua azienda Fiore all'occhiero del Made in Italy nel mondo, ha sempre coltivato questo spirito, rinnovato con il prezioso contributo alla realizzazione di quest'opera di consolidamento e di restauro. E con l'iniziativa odierna, inoltre, possiamo un altro mattone sul processo di ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del centro Italia, per il quale questo governo è fortemente impegnato, sempre al fianco di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali. Il sindaco Alemanno lo ricorderà, nemmeno tre mesi fa eravamo insieme agli studenti a inaugurare l'Istituto Superiore dei Gasperi Battaglia, che era stato reso inagibile dal sisma. Una delle tante opere portate a compimento quest'anno. E nonostante la pandemia, siamo riusciti a imprimere una decisa accelerazione della ricostruzione, con nuove procedure semplificate, corsie a scorrimento veloce per le pratiche private, ma anche per gli appalti pubblici. I tanti cantieri avviati nelle ultime settimane sono incoraggianti. Altre migliaia di interventi partiranno nei primi mesi del prossimo anno. Ci sono tutti i presupposti affinché in primavera la ricostruzione possa finalmente decollare. Ancora c'è tanto da fare, ma siamo fiduciosi che al 2021 il centro Italia potrà essere uno dei più grandi cantieri d'Europa. Ringrazio di questo anche il commissario straordinario Lignini, tutta la sua struttura, ma ringrazio anche per la proficua, costante collaborazione, tutte le istituzioni, le autorità locali, i competenti uffici regionali, tutti i professionisti coinvolti. So bene che questi territori ripongono grande attenzione anche su un'altra importante sfida sulla quale siamo impegnati in questo momento, quella del recovery plan. Siamo al lavoro, come sapete, per definire progetti, modalità per una crescita e una ripartenza che siano davvero sostenibili, digitali e inclusive e che con particolare anche riguardo alle aree terremotate dell'Umbria, dell'Abruzzo, del Lazio e delle Marche possano generare una rinascita non solo economica ma anche sociale. E stiamo lavorando anche con il ministro Provenzano e con il commissario Lignini per dar vita a un contratto istituzionale di sviluppo che possa rilanciare tutto il tessuto produttivo e industriale di queste aree terremotate. Noi non vogliamo limitarci a rammendare un vestito, noi vogliamo vestire l'Italia di un abito nuovo che sia in grado di contenere e esaltare la sua grandezza, la sua forza, le sue enormi potenzialità. Insieme con una comunità coesa come quella di oggi possiamo avere il giusto slancio per far correre il nostro futuro.